Scopri il nostro traspallet elettrico con batteria a litio. È dotato di una maniglia dal design ergonomico con semplici comandi. Presenta una struttura solida, non flette e non si deforma. La forma è simile a quella di un traspallet manuale. Chiunque può imparare rapidamente come farlo funzionare senza problemi. Basta premere il pulsante di sollevamento per sollevare le forche e partire. È maneggevole come un traspallet manuale e può lavorare anche in spazi ristretti. È il traspallet elettrico più compatto e pratico sul mercato. Grazie all'assetto ergonomico riduce notevolmente lo sforzo muscolare e l'affaticamento del lavoratore causato dall'utilizzo di un traspallet manuale. Quando la batteria è scarica è possibile sostituirla in pochi secondi con una di riserva completamente carica. Con due batterie a disposizione, una in uso e una in carica, può funzionare in modo continuo durante tutto l'orario di lavoro. In alcune situazioni di emergenza per la sicurezza dell'operatore il traspallet deve bloccarsi. Questo avviene quando il corpo dell'operatore entra in contatto con il bottone di sicurezza. In seguito il traspallet deve essere riavviato per essere utilizzato. È veloce e pratico, riduce i tempi di trasferimento del carico e rende i processi di magazzino più efficienti. Questo traspallet può muoversi agevolmente anche su salite e pedane. Inoltre, essendo di dimensioni ridotte, il traspallet è flessibile e manovrabile all'interno di furgoni o container. È incluso un caricabatterie esterno. In questo modo è possibile ricaricare la batteria sia se inserita nel traspallet sia separatamente da questo. Rendi più semplice il tuo lavoro.